Respira di nuovo l'aria. È una bella giornata. Vorrei che questo momento rimanesse con la terra, qualche paradiso primordiale. Eccoti di nuovo, dicendo che tutto finisce, dicendo che non puoi dipendere da niente o da nessuno. Se la fine del mondo era vicina, dove sceglieresti di essere? Se ci fossero ancora cinque minuti d'aria, vuoi farti prendere dal panico e nasconderti? O correre per la tua vita? O stai qui e li trascorri con me? Se avessimo altri cinque minuti, potrei, posso renderti felice? Così, finalmente è successo. Ho visto la fine del mondo. Ho visto la fine. Ho visto la follia spiegarsi come qualche barriera primitiva e ho guardato indietro. Armageddon. È il momento della verità tra te e me. Se avessi ancora cinque minuti d'aria per respirare e abbiamo pianto per tutto questo, ma li hai spesi con me?